Perciò se ne andiamo andati di sopra si non fai il giro del giro, carichiamo i mori con il rasco, quello che non è stato diretto. Non è stato un'altra cosa, 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 non è stato un'altra cosa. Il costo di estoure a rimasto, ancora non le d'ai avanti, nonostante, non sono un'altra cosa, e non è stato un'altra cosa, non è stato un'altra cosa. Grazie Comunque non è molto salutare stare sulla sinistra con la stradina lì Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.